coronavirus palla di fuoco arrotolata con fili di seta annodati come cappio che vai ed entri in tutti gli altri inumiditi cercando la tua tana l'angolo il buco dove fare il nido e tessere la tela semplicemente tappi ripari e offendi e l'anima si gonfia e si arrossisce e sputa rabbia e ruba spazio all'aeree si spessisce e forma sangue e pus che tutto inonda anima triste e persa che galleggi e ormai ti lasci andare invochi l'aria come il ramingo l'ultimo respiro come invochi il soffio la brezza il fluir di primavera e attendi l'ultima speranza con gli occhi dilatati e spenti ma infine giunge l'angelo in soccorso che apre come freccia il tunnel che giunge fino in fondo angelo bianco e infagottato che pari fantasma affaticato sei giunto in tempo e ancora il respiro si diffonde